Buongiorno ai nostri video ascoltatori, agli ascoltatori del canale YouTube di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi un interessantissimo saggio appena pubblicato da Olski, editore. Il titolo è Terre di confini tra Toscana, Romagna e Umbria, dinamiche politiche, assetti amministrativi, società locali, secoli XII-XVI, a cura di Paolo Pirillo e Lorenzo Tanzini. E noi abbiamo la fortuna di avere con noi, come gradito ospite, uno dei due curatori, cioè Lorenzo Tanzini, a cui io, come al solito, lascio subito la parola per non rubare tempo. Prego, professore. Grazie, grazie mille dell'ospitalità e un saluto a tutti quelli che seguono nei canali video di Italia Medievale. Dunque sì, si tratta di un volume che raccoglie molti contributi diversi. Il volume è stato pubblicato qualche mese fa mettendo insieme gli esiti di due diversi convegni, uno tenuto a Lorenze e l'altro tenuto a Perugia, nell'ambito di un medesimo grande progetto di lavoro di diverse società storiche e deputazioni di storia patria, che aveva l'obiettivo di studiare il tema del confine in un ambito cronologico abbastanza ampio, quello dell'età basso medievale dei primi secoli dell'età moderna, e in un ambito geografico invece piuttosto circoscritto a quelle regioni che sono citate nel titolo e che sono per ovvi motivi territoriali anche molto vicine e molto interessate dalla dinamica del confine. Ora, se posso dedicare un secondo a uno sguardo un poco al di fuori del libro, ma dentro al progetto che lo giustifica, nel quale è nato, i convegni si sono tenuti nel 2019, il libro è uscito quest'anno. Evidentemente quello che è successo nel mezzo, oltre a ritardare i tempi della pubblicazione, ma queste sono cose abbastanza ordinarie, ha anche direi portato in noi curatori uno sguardo in qualche maniera nuovo. Perché? Perché il tema del confine non è del tutto originale, è un tema fondamentale nella storia, nella storia politica e non solo. L'anno che abbiamo vissuto, l'anno 2020, ha credo introdotto qualche elemento nuovo, cioè ci ha dolorosamente insegnato che la pratica dello spazio, del confine, della distanza non è qualcosa di scontato e nemmeno qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle. Anzi, è diventato, dico davvero dolorosamente, un fattore della nostra vita quotidiana. È quasi impossibile varcare confini nazionali ed è quasi, ed è stato in questo anno piuttosto problematico e continua ad essere limitata la possibilità di varcare confini territoriali tra una regione all'altra, in qualche caso tra un comune e l'altro. Quindi si tratta di fattori della vita sociale che nel passato hanno avuto un peso rilevante e che, nostro malgrado, nel presente sono tornati ad essere fattore decisivo per la nostra vita quotidiana. Quindi è una, per così dire, una conferma di quanto sia interessante guardare alla storia del confine, guardare evidentemente non con cortocircuiti basati sull'esperienza quotidiana, ma guardare con la profondità, la consapevolezza, la maturità dello sguardo storico. Perché? Perché, altra consapevolezza che è importante avere, il confine non ha sempre significato la stessa cosa. È evidente che i confini politici si sono spostati nel corso dei secoli, ma questa è una banalità, non vale nemmeno tanto la pena ripeterla. Il fatto è, e questo davvero era un punto di partenza fondamentale del volume, che il confine, il concetto di confine, cosa significa un confine, è molto cambiato nel corso dei secoli. E guardare a quest'ambito cronologico, direi anche a quest'ambito territoriale piuttosto specifico, la Romagna, la Toscana, l'Umbria, in quella fase tardo-medievale, la prima età moderna, ci permette di verificare questo, quest'idea, questo concetto, questa consapevolezza, che il confine vuol dire cose diverse in periodi storici diversi. Qui io posso attraversare un po' i saggi del volume, che evidentemente focalizzano casi specifici, situazioni specifiche, ambiti territoriali molto delimitati, con affondi documentari assai approfonditi. Tutti i saggi si caratterizzano per una notevole profondità nella lettura della documentazione d'archivio, è stata di un volume costruito sul fronte della ricerca d'archivio, della ricerca sulle fonti inedite. Potremmo dire innanzitutto che i confini tra i vari soggetti politici sono in questa fase confini soprattutto tra territori cittadini. Stiamo parlando di un periodo basso medievale in cui la rete territoriale dell'Italia, soprattutto di questa parte d'Italia, è fatta essenzialmente di comuni cittadini, di poteri urbani estese sul territorio e quindi siamo al momento in cui la carta politica dell'Italia è fatta da questa miriade di punti, che sono le città, le città con un autogoverno di natura comunale, punti che tendono a diventare delle macchie, delle macchie di colore nelle cartine politiche, perché sono centri di un coordinamento del territorio circostante. Ecco, quindi il confine, è in prima battuta il confine politico tra le aree di influenza di dominio di diverse città comunali, ma questo confine politico che va costruendosi via via che le città comunali consolidano il controllo del proprio territorio si intrecciava con altri confini preesistenti. Più di un saggio, nell'ambito del volume, approfondisce il tema della circoscrizione ecclesiastica, perché se vogliamo i confini, la rete delle circoscrizioni più antica e tutto sommato più solida, perché è rimasta viva ancora nel presente, nel 2021, è la rete delle circoscrizioni ecclesiastiche, delle diocesi, delle parrocchie, vari saggi affrontano questo tema, rete che anch'essa aveva una storia, si era formata, si stava costituendo, le diocesi hanno già una definizione territoriale piuttosto precisa, le parrocchie la stanno avendo in questi secoli, ma in maniera meno netta, meno nitida, del resto i confini delle parrocchie sono uno dei temi più incredibili per chi fa storia territoriale, perché sono una realtà che esiste e che esiste ancora oggi, estremamente precisa, estremamente capitale, ma che non è mai cartografata. È praticamente impossibile trovare una carta dei confini delle parrocchie nell'Italia del ventunesimo secolo, eppure questi confini esistono. Quindi per dire che c'è una rete di confinazione preesistente, molto solida, che poi va a intrecciarsi per l'appunto con questa dimensione dei poteri cittadini sul territorio. Quindi sono due modi diversi di intendere lo spazio che si giocano l'uno sull'altro e che non corrispondono mai. Le città come Perugia, come Firenze, come Siena, come Bologna, si trovano a costruire dei territori che spesso stanno a cavallo di diverse circoscrizioni diocesane e quindi di diverse forme di appartenenza. Quindi il primo elemento di complessità è sicuramente questo. L'altro elemento di complessità è quello della dimensione ambientale, territoriale. Perché? Di nuovo, sarebbe una banalità molto superficiale dire che i confini politici non corrispondono con i confini naturali. Qualunque cosa questa espressione significhi, confine naturale. Perché? Perché le sfere di influenza politica, le stesse circoscrizioni ecclesiastiche varcano fiumi, varcano montagne, anzi uno degli ambiti più approfonditi nel libro è quello dello spartiacque appenninico. Non c'è confine naturale più permeabile dello spartiacque appenninico. Le aree tra i territori di Modena, di Bologna, di Pistoia sono segnati da uno spartiacque che certo lo è in senso geografico, idrografico, ma non lo è mai, non lo è mai stato dal punto di vista linguistico, politico, ecclesiastico e così via. Quindi la montagna, le valli montane, i valichi sono spesso aree di osmosi più che aree di frattura e lì si gioca un aspetto essenziale. Allo stesso tempo un altro elemento materiale sono a volte le montagne, a volte le aree umide. Questo è meno facile immaginarcelo perché sono un po' sparite le aree umide, però nell'Italia medievale erano fattori assai significativi. Si pensa in particolare all'area umida delle Chiane, nella zona dell'attuale Valdichiana, tuttora tra le province di Arezzo, Siena e anche Perugia, un'altra area umida quella intorno al lago Trasimeno. Ecco lì c'è un altro elemento importante, l'area umida, le aree delle paludose sono aree molto produttive, molto interessanti dal punto di vista dell'uso delle risorse e quest'uso delle risorse mette in gioco soggetti diversi, città, famiglie signorili, comunità di villaggio e così via. Quindi anche in questo caso non abbiamo un confine inteso come frattura, come separazione netta, ma come area di osmosi. Osmosi in questo caso anche economica, anche di uso delle risorse naturali. Su queste aree di confine montane e anche diciamo di pianura, di aree umide, si innesta un altro fattore storico molto importante che noi abbiamo approfondito soprattutto nella seconda metà del volume, che è quello delle dinastie signorili, perché come vi dicevo protagonista della costruzione del territorio nell'Italia basso medievale sono le città, certamente, ma ci sono altri attori molto importanti che sono le grandi famiglie signorili, grandi famiglie aristocratiche di nobiltà di rango comitale, come usano dire i medievisti, cioè famiglie nate da stirpi titolari di circoscrizioni pubbliche in età carolingia o post carolingia, oppure stirpi signorili più piccole, nate da avventurieri o signori di castello. Ecco, molto spesso queste famiglie giocano politicamente sul controllo di aree di confine, basti pensare ai guidi, ai contiguidi, ecco loro sono davvero di rango comitale, contiguidi nella Casentino soprattutto, qui nel saggio di Marco Piccherai, ma anche altre famiglie come i Fagani da Susinana, che sono famiglia fondamentale nell'area della Val di Lamone o comunque in generale della della dell'appennino spartiacque romagnolo con alcune figure cruciali per la vita politica italiana del duecento, ma molte altre famiglie di area per esempio Perugina o Umbra come i Manenti o come i Marchesi del Monte, i Conti di Marciano, i Conti di Monte Marte e anche altri casi di famiglie signorili qui nella zona più tra Umbria e Marche come i Brancaleoni, i Brancaleoni di Casteldurante, cioè famiglie che erano forti in questo caso di punti di natura diversa, punti castrali, castelli, dominio di singoli castelli spesso in posizioni strategiche, comunque dotati di una capacità di controllo anche molto duro sugli uomini del territorio. Ecco, se noi guardassimo alla alla dinamica politico-territoriale dell'Italia tardo medievale vedremmo queste realtà cittadine che vanno costruendo dei territori però immerse in una sorta di tessuto connettivo fatto di domini signorili più sfrangiati, meno organizzati probabilmente dal punto di vista amministrativo ma altrettanto efficaci anche perché usavano strumenti tipicamente signorili come la forza, la violenza, il controllo degli uomini, le fedeltà degli uomini e così via. Ecco, e in questo gioco città, famiglie e signorili si svolge una parte importante della storia politica dell'Italia basso medievale. Non si tratta soltanto di un conflitto tra città che crescono e famiglie e signorili, espressione di dinamiche per così dire feudali destinate all'esaurimento. Questi fattori sono molto intrecciati, spesso famiglie e signorili si rilanciano in una rinnovata stagione di protagonismo politico nelle città, gli stessi pagani, gli stessi da Susinana hanno un ruolo importante ad esempio nella storia delle città romagnole non solo alla fine del 200 ma tanti altri casi di famiglie e signorili che entrano nella vita cittadina o che sono, che giocano ruoli importanti nella vita cittadina nel 200 e anche più tardi o che più avanti giocheranno ruoli importanti per esempio nel mestiere delle armi che a sua volta è strumento fondamentale per le imprese cittadine di controllo del territorio o comunque nelle imprese belliche militari tra una città e l'altra. Quindi anche in questo caso sono soggetti differenti che entrano in un gioco molto intenso. lo sguardo di questo volume tende ad arrivare ai primi secoli della moderna con interessi diversi a seconda dei territori, a seconda della proiezione locale. È difficile stabilire quando questa storia si conclude, quando questo capitolo per così dire si chiude. Credo che sia piuttosto suggestivo il suggerimento che viene da vari saggi del volume che hanno voluto usare la componente cartografica perché quando noi immaginiamo dei confini, lo diceva all'inizio proprio delle parrocchie, siamo portati a pensare alle carte, alle carte politiche. Ecco anche questo è un elemento di differenza perché per molti secoli il confine non è stato cartografato graficamente. Soltanto nel tardo medioevo cominciamo ad avere esempi di disegno del territorio in cui il fattore politico è cruciale e alcuni dei nostri saggi riportano fonte di questo tipo. Penso al saggio di Tommaso Durante che studia le dinamiche di alcune comunità locali nel nel quattrocento tra Bologna e Imola e mostra alcuni casi veramente affascinanti di disegno del territorio. Ma anche lì si tratta di un disegno del territorio in cui il confine non è ancora per così dire messo a tema. Il tema sono le comunità, il centro è la comunità e i suoi rapporti con l'ambiente urbano. E in effetti in larga parte quando nelle fonti tardo medievali, questo è un tema che ho affrontato io stesso nel guardare alle fonti toscane, quando le fonti tardo medievali parlano di confini più che di linee, più che di tratti segnati sulla carta, parlano di elenchi di comunità. Perché? Che cos'è un territorio? Non è tanto l'area delimitata da una da una linea. Il territorio è un insieme di tante comunità e si costruisce il territorio ottenendo la fedeltà, la sottomissione, il controllo di varie comunità, villaggi, castelli che compongono questo territorio. Ecco, verso la fine del nostro periodo, gli saggi che si sono dedicati all'epoca più tarda, hanno messo in luce tutto quel patrimonio invece di cartografia. Quando comincia la cartografia? In larga parte si tratta di testimonianze settecentesche. Lo Stato settecentesco, lo Stato nell'età delle riforme, ha una sensibilità molto spiccata per la rappresentazione cartografica. Ecco, quindi abbiamo qui soprattutto dall'osservatorio Toscano un enorme patrimonio di mappe che disegnate, disegnate da ingegneri, da esperti, da tecnici, che rendono visibile lo spazio, che rendono visibile il punto di tangenza tra lo Stato Toscano e lo Stato pontificio, in area romagnola, penninica, oppure anche in area umbra. E qui siamo davvero a una svolta. Siamo alla svolta dell'autorità statale che disegna sullo spazio la propria efficacia nel controllo dei sudditi o dei cittadini. In effetti le fonti settecentesche, quelle citate ad esempio da Luca Mannori nel suo saggio, ci fanno toccare con mano come l'amministrazione del tempo gestiva questo, con ad esempio lettere circolari inviate agli ufficiali del territorio in cui si chiede quali sono i confini del tuo territorio, dove sono segnati, in che maniera sono riconoscibili e così via. Quindi siamo in una fase nuova che entra, potremmo dire che ci introduce, alla modernità da questo punto di vista. Io credo quindi che questo volume sia una lettura interessante per capire come il concetto del confine è cambiato nel corso del tempo, ma direi anche per capire come attraverso una lunga storia di pratiche, di intersezioni, di dinamiche, evidentemente anche di conflitti, l'idea di confine propria dell'amministrazione, della politica dell'età moderna si sia piano piano plasmata. Quindi un medioevo che è ricchissimo di inizi, il medioevo è un po' sempre un'età di inizi, anche in questo caso è una lunga fase di inizi, di elaborazione, nella quale via via cominciamo a riconoscere gli elementi che ci sono più familiari quando guardiamo al territorio. Quindi i singoli saggi poi affrontano tutto questo in prospettive mirate, centrate sui diversi territori, ma credo che nella varietà di approcci il messaggio globale del volume sia ben riconoscibile. magnifico, oserei dire molto interessante, è una prospettiva di lettura del periodo tardo-medievale davvero particolare, anche se limitata a un territorio geograficamente abbastanza ben definito, ma che credo poi possa riguardare anche il resto del nostro paese. Quindi io ringrazio tantissimo Lorenzo Tanzini, vi ricordo il titolo del libro che è Terre di confine tra Toscana, Romagna e Umbria. Dinamiche politiche, assetti amministrativi, società locali, secoli XII-XVI. A cura appunto di Paolo Pirillo e di Lorenzo Tanzini, pubblicato da Orski, sono un bel 464 pagine da leggere comunque tutte d'un fiato. Quindi ringrazio tantissimo il professor Tanzini per aver accettato il nostro invito e invito tutti i nostri videoascoltatori a consultare il nostro sito che è www.italiamedievale.org. Grazie ancora e a presto, spero. A presto, grazie, buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.